fronti via testo della scaletta dopo non molli di colpo quello lo devi girare dove è la destra tanto non serve a niente porta via su non l'ha neanche guardata porta qui eh eh sempre buttalo sotto bravo giro sotto sopra e basta via a posto i uomini veri vai giù di dire bravo così ebbah a zero a zero puoi rifarla Marco adesso la puoi fare a zero sia andare che tornare vai è una proposta tanto non giuro eh se neve quel tronco qua mettitelo di così eh che quella è una buona idea si che martica no perché se una volta che ti ferma Paolo non può portarlo io per la ferma lì eh se lo alza se lo alza eh no perché se lo alza eh no perché se lo alza magari sparisci eh giusto per avere uno ma là basta così se lo figa adesso te le fai sfalzo dico se li metti il tronco sotto quando c'è l'acqua spinge seguo qui qui così basta così dai stai scipendo stai scipendo stai scipendo stai scipendo estri al naturale è non la metti ti compro una bentumiera no ma stai scipendo è un doppio carattino adesso fai questo ti compro una bentumiera quasi mi entrava là certo una bentumiera prova il marco o il marco gli piaceva il tronco qua il sassetto è vero? vuoi lasciato? dove la vuoi guarda che non l'ha ancora usata lui affilata perché se l'aveva usata lui basta questo qui se lo vuoi 3 attimelo immagazzino se lo 3 attimelo immagazzino 3 attimelo immagazzino 3 attimelo immagazzino 3 attimelo immagazzino come si fa? 4 attimelo immagazzino uomo cadrega scusca il uomo cadrega questo, tutto dentro o questo? asfaltata a zero e non l'ho visto da dietro adesso no momento scusami adesso fatto 30 figaro questo questo lo rimetti dietro al tronco perché così non si muove più come ti usare tuo messo in opera dai marco sei stato un mese in ferie cristoforo è stato un mese lavorare dai su danni un aiutino trovo anch'io dai su per quello che posso io sto filmando quindi non è che posso fare i miracoli dai come fai prima a far da solo il suo sasso questo qua questo chiameremo il sasso del marco girano per così sia fuori che io lo prendo di qui lo mettiamo lì no ribaltalo allora lo devi sollevare e certo lo sollevano un caterpillar ma sei fuori e allora lo prendo io di lì tu lo prendi di qui ribaltalo basta no no non lo devi ribaltare basta è quello che gli sto dicendo ma non vuoi girarlo dai prendi di lì quella lì deve andare lo devi sollevare ma lo devi tirare ma non riesco a sollevare ma sei impazzito già non riesco così ma sei scemo non c'è più neanche l'aria non c'è più dai adesso ce l'ho messo lì giusto eh così vai vai di là bravo macchio e che cavolo adesso puoi anche scendere no tutto contro ma come cazzo fai alzarlo io non riesco devi metterlo là lo puoi spostare due centimetri o due guarda là no appoggerlo che va giù no no non lo puoi spostare venti quella buttano dentro tu un piccolino tuttore lo postiamo lì bravo questo è già il mio massimo che posso spostare figa oh figa adesso smettetela andiamo avanti e vediamo a far vedere aspetta con due ha finito e non sto a lavoro per niente ragazzi qua andiamo a prenderli qua eh faliscono tutti e andiamo a prenderli qua dai marco prova vai 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 che provo io sei tu il maneggiamento ho fatto io di tutto verso senza niente ormai l'hai provata in tutti i versi l'hai provata solo tu e la provi solo tu è la tua zona vergine questa la provo con la tua no con la mia non penso che ho appena aggiustato il parafango dai si che si mangia borla giù cazzi suoi e così non puoi sbagliare aspetta devi far così sbagli la freccia e poi a posto se sbagli così si lo scecco si lo scecco se sbagli così si lo scecco non riaccende devi usare la tua ti ha fatto le frecce non va la mia fagli la riga di lì una bella riga di lì quella però è una bella pensata aspetta qua c'è le righe tratteciate anche cioè dalla sede tutta la traccia fino al campo devi far tempo oh anche lì voglio vedere se lo sbagli dai Marco c'hai giù tutte le righe attento attento Marco c'hai tutte le righe pronte vai che c'hai le righe pronte triangolo guarda che ti hanno fatto tutte le segnalazioni ti hanno fatto tutte le segnalazioni quindi guarda da lì in poi c'hai tutte le righe le frecce le cose vai vai se la fai a zero sei uno spettacolo solo tu puoi provare così è il modo migliore per spostare la moto senza far fatica ah pure c'è anche il cartello di attenzione vedi che parte subito guarda riga 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 frecce si 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 muove quello si che saranga basta possiamo andare ciao a tutti è stato bello a posto Marco va che bello Demo ma va l'ha provato lui basta a posto si è tenuto la sua alla sua forza è a posto dai Seve io vado su al campo con il guzzo e te vai con la mia andiamo a fare due zone andiamo dai Severino ci appa sul montese vai con i sandali cosa diranno se vedono quella roba a proposi ti te sei andato a fare la rivista